Il nuovo codice dei contratti pubblici, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore il 1 aprile 2023, sta generando molte preoccupazioni tra gli architetti dell'Ordine della provincia di Teramo, unitamente alla totalità degli ordini provinciali italiani. Questo nonostante si sia rilevata l'opera di snellimento delle procedure burocratiche, soprattutto in vista degli imminenti fondi del PNRR. Ma la digitalizzazione, quale motore centrale dell'appalto, la previsione di forme di tutela per le imprese esecutrici rispetto al caro prezzi e altre interessanti novità, stanno però creando forti perplessità su alcuni dei principali punti del nuovo impianto normativo. Uno degli aspetti che maggiormente ci preoccupa è quello dell'appalto integrato. Noi anche col Comune di Teramo avevamo proposto una piattaforma per i concorsi, perché riteniamo fondamentale l'applicazione dei concorsi che possano migliorare proprio, diciamo, anche la qualità architettonica di ogni città. Perché noi sappiamo che ogni intervento, anche il minimo intervento edilizio che si fa in un territorio, avrà le sue conseguenze, condiziona la vita dei cittadini, perché l'architettura è un evento sociale, quindi è necessario che si riveda bene un po' il discorso del codice degli appalti. Secondo l'Ordine Terramano, l'attuale condizione sta portando alla perdita della centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, attraverso il ricorso diffuso alle procedure di affidamento diretto dei servizi di progettazione. Con l'affidamento diretto, per esempio, nel caso dei servizi di progettazione, viene scelto il progettista. Quindi il ricorso ai concorsi di progettazione è stato limitato. Questo non va bene al nostro giudizio, perché con il concorso c'è la possibilità di confrontare più soluzioni progettuali e di sceglierne la migliore. Con l'affidamento diretto si sceglie il progettista. Secondo dei requisiti, che tra l'altro spesso sono di carattere aziendale, quindi in base al fatturato, all'esperienza progressa. Questo secondo noi non va bene, perché limita fortemente l'inclusività dei giovani, dei professionisti di talento e in qualche modo va a monopolizzare questo mercato.